Salve a tutti e benvenuti o bentornati sul mio canale. Il video di oggi è dedicato agli sconti, alle promozioni che sono attive attualmente su alcune case editrici e quindi sarà un video di consigli su cosa acquistare e sarà un mix di libri letti che mi sono piaciuti e che quindi vi consiglio di recuperare anche approfittando di questi piccoli sconti e invece libri che io stessa ho in wishlist perché onestamente di queste case editrici di cui vi andrò a parlare io non ho letto e apprezzato così tanti titoli quindi sarà un mix delle due cose spero comunque di darvi degli spunti interessanti siamo un po' al limite con alcuni di questi sconti perché alcuni sono veramente in scadenza io arrivo sempre dopo i fuochi però non importa tanto gli spunti letterari, i consigli di lettura non scadono mai quindi anche se gli sconti non saranno più attivi però potreste voler recuperare questi titoli quindi mi sono decisa comunque a fare questo video prima di iniziare con il video vero e proprio vi ricordo che oltre che qui su youtube dove potete supportarmi iscrivendovi al canale mettendo mi piace e commentando i video se ovviamente vi piacciono i miei contenuti potete trovarmi anche altrove in magici luoghi dell'internet come ad esempio instagram che io vi consiglio sempre perché lì sono attiva giornalmente e vi porto anche altri contenuti diversi rispetto a quelli che trovate sul canale quindi non si parla solo di libri ci sono dirette, ci sono rubriche di etimologia insomma date un'occhiata al mio profilo instagram e a tutti gli altri profili perché ho anche goodreads, facebook insomma vi lascio tutti i link qui sotto nel box informazioni così se vi va mi potete seguire anche altrove detto ciò iniziamo con i consigli veri e propri come vi ho detto saranno un mix di libri letti e libri invece che vorrei leggere ho cercato di stilare questa lista escludendo i titoli più inflazionati quelli di cui si parla più spesso proprio perché li trovate probabilmente in tutti i video di consigli quando si parla di queste case editrici specie riguardo a fatti però ho dovuto fare qualche eccezione perché secondo me alcuni titoli effettivamente famosi di cui si parla tanto meritano questa fama e quindi li ho inseriti nel video allora iniziamo iniziamo proprio da fatti scusate se mi vedete guardare giù ma ho degli appunti perché questo video sarà mezzo improvvisato ma qualche appunto me lo sono preso iniziamo da fatti e la promozione sarà attiva fino al 3 ottobre allora io di fazzi vi raccomando soprattutto la collana le strade perché dal mio per quanto riguarda i miei gusti è la più interessante poi c'è anche una collana dedicata ai fantasy young adult ma di quella collana io non ho letto praticamente niente nonostante abbia qualche titolo in ebook c'è una collana dedicata ai thriller ma lo sapete non è il mio genere quindi sulle strade che è una collana dedicata principalmente ai classici andiamo più vicini ai miei gusti e per questa collana quante volte ho detto collana sono pubblicati alcuni autori molto significativi soprattutto inglesi tra questi George Eliot che è l'autrice di Middlemarch che io voglio assolutamente recuperare però non è edito per fazzi per fazzi sono editi altri suoi titoli io non ho mai letto niente di questa autrice che ovviamente usava uno pseudonimo maschile ma mi attira moltissimo perché è classico della letteratura inglese romanzi belli corposi tendenzialmente corali quindi con tanti personaggi quindi nelle mie corde altro autore dell'ottocento edito per fazzi in questo caso ci sono direi più o meno tutti i suoi titoli più famosi e che io ancora non conosco ma che vorrei recuperare è Wilkie Collins autore della Donna in bianco La pietra di luna e tanti altri ne trovate tantissimi editi da fazzi vi segnalo che sono libri corposi e con un font abbastanza piccolino infatti io volevo recuperare La pietra di luna ma ci ho ripensato perché l'ho visto in libreria e il font era veramente minuscolo quindi credo che lo leggerò in ebook ma questa edizione di Wilkie Collins hanno delle copertine stupende sono veramente molto belle molto curate dal punto di vista grafico come sempre avviene con la fazzi quindi ve le suggerisco Wilkie Collins era un amico di Dickens quindi suo contemporaneo romanzone dell'ottocento anche qui ricchi di personaggi e i suoi romanzi in particolare avevano una trama che potremmo avvicinare al giallo o comunque al misteri contemporaneo quindi mi ispira parecchio e io sono un amante dei classici prima o poi arriverò anche Wilkie Collins infine ultimo autore classico nel vero senso del termine che vi raccomando è Thomas Hardy di Thomas Hardy io ho letto Tess dei Darberville e mi è piaciuto tantissimo purtroppo non è edito da fazzi però ci sono tutti gli altri suoi romanzi io in particolare ho qui nel bosco che avevo recuperato secoli fa a un negozio del libraccio non l'ho ancora letto però mi sento di consigliarvi Thomas Hardy a occhi chiusi perché la sua scrittura è favolosa le sue evocazioni e descrizioni della natura della campagna sono spettacolari certo non è un autore dei più allegri però sicuramente è un autore veramente che può parlare anche contemporanei e che racconta tanto dell'età vittoriana inglese e delle sue contraddizioni quindi io ve lo consiglio tanto e sicuramente presto leggerò anche nel bosco perché Tess dei Darberville mi è piaciuto tantissimo di suo in lista anche la pazza folla e Jude lo scuro che però mi sembra non sia edito fazzi vediamo adesso invece un libro del quale si parla veramente tantissimo o meglio una serie di libri infatti qua vengo meno alla mia premessa di parlare di libri poco citati ma non posso fare a meno di nominarvi questa saga perché io l'ho amata alla follia non credo sia un libro che può piacere a tutti però sicuramente è una saga familiare molto molto valida e che vi riserverà gioie e dolori e sto parlando ovviamente della saga dei Casalet di Elizabeth Jane Howard questo qua è il primo volume di Elizabeth Jane Howard fazzi ha pubblicato vari volumi alcuni li possiedo io oltre alla saga dei Casalet ho letto soltanto all'ombra di Julius che però non mi ha convinta quindi vi raccomando principalmente questa serie perché effettivamente è molto bella la scrittura della Howard è splendida è una saga familiare con tantissimi personaggi veramente una serie corale e ogni personaggio è caratterizzato benissimo li sapete distinguere l'uno dall'altro senza problemi di questa serie esistono anche gli audiolibri li trovate disponibili sia su Audible che su Storytel ma li potete anche acquistare in libreria o nei vari store online perché appunto sono editi da Emmons e vi consiglio tantissimo gli audiolibri perché sono fatti molto molto bene come vi dicevo non è una saga adatta a tutti principalmente perché non è una serie ricca di eventi ricca che vi tiene attaccati per la trama per le svolte colpi di scena non ha un intreccio così avvincente è una serie che parla della vita quotidiana di questi personaggi di questa famiglia e di coloro che ruotano intorno alla famiglia quindi per questo vi dico che non è una serie per tutti sono romanzi da ritmo abbastanza lento però i personaggi sono costruiti talmente bene talmente ben caratterizzati che non potete fare a meno di affezionarvi a loro e di conseguenza volete sapere che cosa gli succede volete sapere come mandano avanti le loro vite tra l'altro sono romanzi che coprono diversi decenni e il contesto quindi la storia inglese di quegli anni siamo dal 39 in poi quindi attraversiamo tutta la seconda guerra mondiale e il dopoguerra è molto molto interessante e ovviamente influisce fortemente sulle vite dei personaggi io non mi stancherò mai di consigliare questa saga capisco che a molti può non piacere per i motivi che vi ho esposto ma se siete amanti delle saghe familiari assolutamente da recuperare i casalette rimanendo in tema di saghe familiari un altro libro che vi consiglio specialmente se magari avete già letto la award e vi è piaciuta è il capofamiglia di Evie Compton Barnett io non ho ancora letto questo libro però mi sento di consigliarvelo perché appunto l'atmosfera da quanto ho letto dalle recensioni dalla quarta di copertina insomma dalla sinossi mi sembra molto molto simile in più l'autrice era molto amata da Natalia Ginzburg il romanzo appunto come dicevo ha al centro una famiglia il capofamiglia è appunto il padre che è diciamo l'incarnazione del patriarcato è un uomo tirannico anaffettivo che prende tutte le decisioni che non lascia spazio né alla moglie né alle figlie e le protagoniste sono appunto queste due figlie molto diverse fra loro in quanto una è molto remissiva e compiace il padre in tutti i modi l'altra invece è più ribelle vi leggo un attimo quello che mi ero segnata che è scritto non è scritto nel reto di copertina però lo trovate nella sinossi se andate a cercare il libro online è una frase che un po' riassume il mood del contenuto del libro ve la leggo perché è significativo Akume Sagasha drammi familiari e dialoghi al vetriolo il meglio di Compton Barnett concentrato in un romanzo finora inedito in Italia che lei stessa considerava il suo preferito abbiamo bisogno di sapere altro su questo romanzo? per quanto mi riguarda no e vorrei assolutamente leggerlo al più presto perché romanzo familiare Akume Battute al vetriolo sembra proprio un romanzo adatto a me infine altro romanzo fazzi che non ho ancora letto ma che ho in wishlist è La statua di sale di Igor Vidal Gore Vidal è un autore intellettuale americano di grande pregio del quale però effettivamente in Italia non sento parlare molto spesso anzi quasi mai per fazzi ci sono diversi suoi romanzi pubblicati tra cui un romanzo biografico dell'imperatore Giuliano se non ricordo male ma quello che mi attirava di più almeno per il momento appunto questo qua La statua di sale è ambientato negli Stati Uniti nel sud degli Stati Uniti negli anni 60 se non ricordo male il protagonista è un ragazzo che appartiene a una famiglia borghese una famiglia benestante lui è un ragazzo bello intelligente e atletico che si innamora di un suo compagno di classe è un amore molto intenso però a un certo punto i due si separano per una serie di motivi tuttavia il nostro protagonista non scorderà mai questo suo amore nonostante poi successivamente abbia altre frequentazioni con uomini e con donne non so molto altro della trama sinceramente mi basta è un romanzo di cui si parla spesso all'interno di consigli legati alla letteratura che tratta semi e queer o comunque lgbtq plus e possiamo definirlo un classico del genere in più sono curiosa di conoscere appunto Gore Vidal che è una figura di spicco all'interno della letteratura americana letteratura che io non frequento spesso quindi magari recuperiamo con la statua di sale come per tutti i libri che vi citerò in questo video fatemi sapere se voi l'avete letto se vi è piaciuto se non vi è piaciuto se vi interessa leggerlo insomma sentiamoci nei commenti seconda casa editrice che ha applicato lo sconto del 20% in questo periodo su tutto il suo catalogo escluso le novità è la Minimufax questi sconti saranno attivi fino al 26 settembre per questo vi dicevo che con questo video sono proprio a ridosso io non ho letto molti titoli perché ci ricolleghiamo a quello che vi dicevo prima non conosco molto la letteratura americana è Minimufax pubblica per lo più non solo ovviamente ma per lo più letteratura americana però ho due titoli questa volta letti che vi consiglio assolutamente del primo abbiamo parlato di recente ed è Sofia si veste sempre di nero di Paolo Cognetti mi è stato regalato per il mio compleanno e l'ho amato particolarmente anche di questo titolo trovate l'audiolibro disponibile sia su Storytel che su Audible letto da Isabella Ragonese e anche questo ho fatto molto molto bene è una raccolta di racconti però una raccolta di racconti sui generis perché i protagonisti dei racconti sono sempre gli stessi e sono familiari amici conoscenti di Sofia che è appunto sempre al centro della narrazione è un po' come leggere vari pezzi di un puzzle poi da ricomporre per formare la figura di Sofia a tutto sondo è scritto molto bene Cognetti ha una penna felicissima nonostante la sua scrittura sia abbastanza asciutta ecco rispetto allo stile che piace più a me Cognetti si rifà parecchio alla letteratura americana non a caso appunto è pubblicato per Minimum Fax però mi piace moltissimo il suo stile di scrittura e questo romanzo per racconti è veramente molto valido e ve lo consiglio tantissimo se volete recuperare una recensione più completa vi rimando al wrap up in cui ve ne parlavo ve lo lascerò ovviamente linkato nelle schede e nel box informazioni altro titolo Minimum Fax che vi consiglio non è un romanzo ma un saggio un saggio che io vi farò vedere nell'edizione che ho che è una vecchia edizione Mondadori che è andata fuori catalogo infatti questo libro è stato difficilissimo da recuperare per un tempo irragionevole poi finalmente Minimum Fax l'ha ristampato ed è come funzionano i romanzi di James Wood io l'ho trovato con un colpo di fortuna sul libraccio anni fa e me ne sono innamorata è un saggio che parla di letteratura e soprattutto di critica letteraria e voi penserete che noia no è un saggio piacevolissimo molto chiaro James Wood ha un stile incredibile ricco anche di consigli di lettura quindi magari non leggetelo se non volete ampliare ulteriormente la vostra wishlist e vi spiega esattamente come funzionano i romanzi in generale come funzionano le narrazioni quindi si parla di stile di scrittura di costruzione dei personaggi di dialogo cioè veramente di tutto è anche abbastanza breve quindi anche un volumetto agile e se siete appassionati anche solo un minimo di letteratura non potete non trovarlo interessante vi lascerò da qualche parte la copertina nuova così non vi potete sbagliare se c'è un libro di questa serie di questa casetice che vi consiglio di recuperare assolutamente è questo qua di James Wood proprio perché è tornato disponibile da pochissimo da circa un anno da quando è stato ristampato infine ultimo titolo di Minimum Fax questo famosissimo lo inserisco perché già ve lo dico spoiler sui prossimi book haul è il titolo che io acquisterò con questa promozione ed è Revolutionary Road di Yates lo possiamo definire ormai quasi un classico moderno della letteratura americana se ne parla sempre tantissimo io personalmente ho recuperato il film qualche anno fa il film con DiCaprio e mi è piaciuto veramente tanto quindi ho voluto aspettare un po' di tempo dopo aver visto il film e adesso voglio leggere anche il libro anche perché mi sembra proprio il mio genere perché siamo una famiglia una coppia borghese subborghi di New York una coppia che si ritiene super anticonvenzionale in realtà è proprio inserita a pieno nelle convenzioni di questa classe sociale poi succederanno una serie di cose che in qualche modo riveleranno smaschereranno i nostri protagonisti e la situazione in cui vivono però non vi voglio dire altro sulla trama il film è veramente molto molto bello e sono curiosa di leggere anche questo romanzo passiamo adesso a Bao Bao Publishing casa editrice di graphic novel piuttosto famosa ormai anche lei applica gli sconti del 20% fino al 3 ottobre non mi dilungherò perché io già l'anno scorso avevo fatto un video interamente dedicato ai consigli su cosa acquistare con Bao e in quel video sono elencati più o meno quasi tutti gran parte dei miei graphic novel preferiti quindi vi lascio il link a quel video lì aggiungo soltanto un titolo che all'epoca non avevo ancora letto che quindi non potevo inserire nella lista e non stupirà nessuno sapere che è La terra, il cielo e i corvi di Teresa Radice e Stefano Turconi ve ne ho parlato nel video dei preferiti ve ne ho parlato nello scorso Bravo Up e ho fatto una live con il mio amico Cosimo proprio dedicata a questo graphic novel nella quale lo confrontavamo con Il sergente nella neve di Mario Rigoni Stern che è sicuramente una grande fonte di ispirazione per la stesura di questo graphic novel che altro vi devo dire è bellissimo a mio parere il migliore di questa coppia di autori quello che mi è piaciuto di più mi ha coinvolta di più e quello sicuramente meno smielato i disegni sono stupendi come tutti i disegni dei loro graphic novel e io ve lo consiglio vivamente il protagonista è un italiano che in compagnia di un russo e di un tedesco nel 43 scappa da un campo di prigionia russo e si ritrova a vagare in mezzo alle steppe in mezzo al ghiaccio la storia è raccontata dal suo punto di vista e si parla di guerra ovviamente ma in modo marginale e molto più psicologico che non mostrando gli effetti della guerra a livello proprio materiale e si parla soprattutto di solidarietà di solidarietà umana di rapporti umani di incomprensioni di superare le differenze nazionali linguistiche insomma è un fumetto veramente molto molto bello che io vi raccomando per tutti gli altri consigli BAU il video lo trovate linkato recuperatevelo rimanendo in tema fumetti passiamo alla la terza la terza è una casa editrice che pubblica prevalentemente saggi anzi direi esclusivamente saggi però recentemente ha cominciato a pubblicare anche graphic novel e io vi consiglio assolutamente di recuperare bastava chiedere di Emma anche di questo graphic novel si è parlato tantissimo però mi sento di consigliarlo perché veramente è una lettura a tratti illuminante si parla chiaramente di tematiche legate al femminismo come ad esempio il carico mentale il carico affettivo si parla di sessualità di gravidanza e di molto altro in una versione a fumetti molto chiara perché utilizzando anche il mezzo grafico riesce a spiegarsi in modo molto più intuitivo e tutte queste tematiche sono declinate nell'ambito del quotidiano quindi non è un graphic novel che riflette sul femminismo a livello filosofico parlando dei massimi sistemi che per carità non c'è niente di male anzi c'è bisogno anche di quello ma declina tutte queste tematiche appunto nel quotidiano mostrandoci nella praticità della vita di tutti i giorni dove il patriarcato va a influire a danneggiarci a toglierci delle possibilità e dove appunto si può quindi agire per migliorare la situazione molto molto interessante accessibilissimo a tutti chiaro nelle spiegazioni quindi io mi sento assolutamente di consigliarvelo ma come vi dicevo la terza pubblica prevalentemente saggi e ha degli autori diciamo così di punta dei quali ha pubblicato se non tutta la bibliografia quasi in particolare c'è Zygmunt Bauman che è un grandissimo sociologo scomparso qualche anno fa io non ho mai letto niente di suo perché un po' mi intimorisce ma assolutamente voglio recuperare qualcosa specialmente società liquida mi pare sentito in uno dei suoi saggi che penso riassuma un po' il nucleo del suo pensiero anche perché appunto la definizione di società liquida è proprio una sua definizione che poi è stata ripresa anche da tanti altri studiosi era appunto un sociologo e quindi si parla molto della società contemporanea e è un argomento che negli anni mi sta appassionando sempre di più mi interessa sempre di più a antropologia e sociologia materie che non ho mai studiato all'università perché ho fatto un percorso diverso ma che vorrei approfondire diciamo in maniera autonoma quindi sicuramente prima o poi recupererò qualcosa di Bauman altro autore di punta è Obsbaum che ha un nome complicatissimo da pronunciare è uno storico e forse lo conoscete per aver pubblicato Il Secolo Breve che penso sia il saggio sul novecento più raccomandato più famoso più forse anche valido però Il Secolo Breve non è pubblicato per la terza è pubblicato per Rizzoli per la terza invece sono pubblicati gli altri tre volumi che compongono una ideale quadrologia che con Il Secolo Breve va a coprire otto e novecento allora io ho letto uno di questi mi pare l'età degli imperi ma non vorrei dire stupidaggini per un esame all'università di storia contemporanea e l'ho odiato ma non perché il saggio fosse scritto male o non fosse interessante no sono sicura che se lo rileggessi adesso lo adorerei ma che quel corso specifico quel professore specifico mi ha fatto detestare tutto quello che dovevo studiare per quel corso e per farmi detestare la storia ce ne vuole ce ne vuole perché chi mi segue da un po' sa che io invece sono appassionatissima di storia quindi questi sono i danni che certi insegnanti fanno ma lasciamo perdere assolutamente voglio rileggere Hobsbaum partendo dal secolo breve ma sicuramente prima o poi nella vita sono ancora giovane grazie al cielo recupererò anche gli altri tre libri che compongono questa ideale quadrilogia ovviamente non si limita a fare un elenco dei fatti principali di questi due secoli come potrebbe avvenire ad esempio il manuale scolastico ma la sua è tutta una riflessione sui mutamenti ideologici sociologici i cambiamenti nelle classi sociali l'imperialismo insomma tutti quei grandi mutamenti che poi hanno determinato la società contemporanea così come la conosciamo oggi attraverso appunto questi due secoli cruciali perché 8 e 900 abbiamo lo sviluppo dell'imperialismo del capitalismo quindi delle democrazie per cui lo vedete insomma elementi fondanti della società odierna così come la conosciamo altro autore di punta ovviamente lo conosce da tutti è Alessandro Barbero io di Barbero ho letto per ora soltanto un titolo eccolo qua Carlo Magno un padre per l'Europa titolo che io vi consiglio tantissimo è un saggio in cui Barbero parla ovviamente di Carlo Magno della sua vita e di come il suo regno abbia forgiato per la prima volta il concetto di Europa come unità culturale se così vogliamo perché al tempo dei romani il concetto di Europa non c'era l'impero romano si estendeva anche oltre i confini di quella che noi consideriamo l'Europa che poi è un confine ovviamente ideale è con Carlo Magno e con il suo regno con il suo impero che invece si comincia a definire l'idea di Europa di europei noi siamo gli europei gli altri sono un'altra cosa è un saggio interessantissimo anche bello corposo però si legge veramente bene Barbero scrive come parla inserendo tanti aneddoti la sua scrittura è molto scorrevole piacevole a tratti anche divertente quindi assolutamente consigliato comunque è un saggio valido non è una storiellina anche perché io questo libro l'ho letto perché mi è stato consigliato all'università faceva parte del programma di un corso di storia medievale quindi questo vi può attestare anche l'affidabilità di questo testo e degli altri testi di Barbero tra l'altro in sconto all'interno di questa promozione c'è anche Dante uno dei libri più recenti se non il più recente pubblicato da Barbero che appunto racconta della vita e del contesto storico in cui ho vissuto il sommo poeta io ovviamente ce l'ho gli wishlist lo voglio recuperare tra l'altro anche di questo esiste l'audiolibro sia su Storytel che su Audible ma voglio aspettare a recuperarlo quando uscirà in brossura perché al momento si trova solo l'edizione cartonata e appunto quindi sto aspettando ma assolutamente è dal momento dell'uscita che voglio recuperare Dante e ovviamente poi di Barbero ci sono tanti altri titoli che trovate su Editi dalla Terza su vari periodi storici principalmente lui è studioso del Medioevo quindi ci sono tanti testi sul Medioevo alcuni in collaborazione con Chiara Frugoni che è un'altra saggista che parla di Medioevo molto valida e anche di lei trovate diversi titoli editi dalla Terza però appunto ci sono anche altri c'è uno un volume dedicato a Caporetto uno dedicato a Le quanto quindi vedete si spazia molto nei periodi storici date un'occhiata c'è tanta roba e Barbero sicuramente è un autore validissimo infine ultimo spunto che vi lascio per quanto riguarda la casa editrice e la Terza è un saggio che io ho scoperto proprio spulciando un po' il sito di questa casa editrice per guardarmi un po' il catalogo anche in vista di questo video ed è un saggio che si intitola il titolo è lungo per cui mi perdonerete se lo leggo il cattivo tedesco e il bravo italiano la rimozione delle colpe della seconda guerra mondiale di Filippo Focardi è un saggio che appunto si dedica a svelare tutti quegli stereotipi tutti quei come dire quelle convenzioni che noi ci portiamo dietro per cui sì va bene gli italiani erano fascisti sì hanno fatto la guerra però in realtà non si sono macchiati di tante atrocità come hanno fatto i nazisti non è assolutamente così e quindi questo libro può aiutarci appunto a venire a patti con il nostro passato senza maschere di alcun tipo e quindi anche a elaborarlo meglio per cui insomma io non l'ho letto però c'è una wishlist e ve lo segnalo perché mi sembra un titolo molto interessante inoltre vi segnalo che nell'ambito saggistica è attiva una promozione sempre del 20% sui tascabili del mulino il mulino è una casa editrice abbastanza autorevole e quando si tratta di saggi e chiunque di voi abbia frequentato un'università umanistica sicuramente si è ritrovato qualche manuale del mulino da studiare durante qualche corso universitario sono quindi scontati tutti i tascabili io non ho consegni specifici da darvi perché non conosco bene questa casa editrice però vi segnalo appunto che la promozione sarà attiva fino al 17 ottobre quindi se dovete fare delle ricerche degli studi su qualche argomento specialmente per quanto riguarda saggi storici ma non solo dateci un occhio perché c'è veramente tanta roba infine ultimi sconti che vi segnalo sono quelli sulla casa editrice nutrimenti che saranno attivi fino al 19 ottobre allora io anche in questo caso non ho mai letto nessun libro di questa casa editrice e il catalogo mi ispira fino a un certo punto però comunque ve lo volevo segnalare e vi segnalo l'unico titolo di questa casa editrice che io ho in wishlist la responsabile di questo fatto cioè che io ho messo il suo titolo in wishlist è Jessica lettrice tra le ombre vi lascio il link al suo canale e vi consiglio infatti di andare a recuperarmi i suoi video e il suo profilo instagram perché lei invece ne ha letti tanti titoli nutrimenti e quindi sicuramente se vi interessa se vi interessano dei consigli in merito troverete tanti spunti interessanti ma nel caso specifico io volevo parlarvi di Paradise Falls il primo volume dovrebbe essere una duologia che si intitola Il Paradiso di Don Robertson autore che ho scoperto proprio grazie a Jessica è un autore americano che è morto credo abbastanza giovane al suo tempo era molto valutato ma poi è stato un po' dimenticato fin quando appunto in qualche modo Stephen King non ne ha parlato riportandolo in auge e in Italia è stato pubblicato per la prima volta da Nutrimenti proprio recentemente anche in questo caso voglio leggervi una frase che è riportata online sulla scheda di questo libro sui principali store ed è questa Il primo volume del romanzo più ambizioso di Don Robertson il labirintico ritratto di una cittadina del Midwest del suo sviluppo e del suo declino morale nei decenni che seguono la guerra civile americana c'è bisogno di sapere altro? non credo romanzo corale tanti personaggi cittadina del Midwest poco dopo la fine della guerra di secessione per me questo è non trovo motivazioni per non recuperare questo libro poi Jessica ne ha parlato benissimo quindi insomma io ve lo segnalo anche se non l'ho letto però mi sembra veramente un titolo molto molto interessante bene il video finisce qui io penso di avervi ammorbato abbastanza fatemi sapere qui sotto appunto se avete letto alcuni di questi libri se vi sono piaciuti cosa voi consigliate di queste specifiche casettrici quali sono secondo voi i must have di Fazzi di Memo Fax di Bao insomma ci siamo capiti io vi ringrazio per avermi seguito fino alla fine vi lascio qui sotto l'elenco di tutti i libri citati e tutti i miei contatti social e noi ci vediamo nel prossimo video